Il Santuario Diocesano di Sant'Angelo stamattina ha ospitato la celebrazione di una santa messa alla presenza di 24 pellegrini americani provenienti dalla parrocchia Sacro Cuore Santo Stefano di Brooklyn, New York. La comunità è stata guidata dal parroco Monsignor Gaimassi che ha presieduto la celebrazione eucaristica. Sacro Cuore Santo Stefano è la prima comunità parrocchiare italiana della Diocesi di Brooklyn fondata nella città di New York dove si raduna una nutrita comunità di oriundi italiani. Nel territorio parrocchiale insistono diverse famiglie di emigrati italiani provenienti dal meridione d'Italia, compreso un gruppo di licatesi emigrati negli Stati Uniti a partire dai primi anni dello scorso secolo. Nella chiesa parrocchiale si venera una statua di Sant'Angelo Martire, patrono della città di Licata, che negli anni settanta è stata donata dai devoti del santo carmelitano alla comunità licatese a Brooklyn. In passato il simulacro del santo veniva portato in processione per le vie di Brooklyn nel mese di maggio e curava tale manifestazione la società di Sant'Angelo. Oggi questa tradizione è venuta meno ma la devozione è ancora presente, tanto da spingere la comunità parrocchiare ad inserire Licata tra le tappe del pellegrinaggio che stanno svolgendo nel meridione d'Italia. I pellegrini sono giunti in Italia la scorsa settimana e hanno già visitato la Campania, la Puglia e la Calabria e in questi giorni saranno in Sicilia dove effettueranno diverse tappe oltre a quella licatese di questa mattina. E' per noi motivo di gioia accogliere questa comunità a testimonianza della devozione del santo che non ha confini territoriali e dell'attività svolta da questo santuario nella divulgazione del culto e nell'accoglienza dei pellegrini, si legge nel comunicato stampa emesso dal santuario diocesano.